Ho terminato l'Accademia di Belle Arti a Durbino, mi sono trasferito a Firenze per un anno, una specie di anno sabbatico sostanzialmente, un anno in cui mi ero prefisso di trovare eventualmente delle gallerie che potessero raccogliere il mio lavoro. È stato un anno di grande solitudine in cui ho lavorato molto, molto più di quanto non avessi lavorato addirittura nei quattro anni dell'Accademia. Ad un certo punto, ho raccolto un certo quantitativo di opere, ho cominciato a girare, pensavo un luogo che poteva essere a Milano o Roma o qualsiasi altro polo artistico italiano e andavo dopo piccole esperienze avute anche a Milano con una piccola galleria. Il primo luogo però concreto con cui è cominciato un cammino di crescita è stata la Galleria Cardelli e Fontana di Sarzano. Per la prima volta ho trovato l'accoglienza che speravo. Non avevano la volontà di consumare l'opera ma la volontà precisa era quella di farla crescere. Dopodiché ho cominciato a collaborare sempre tramite Cardelli e Fontana con altre gallerie, Bonioni di Reggio Emilia, la Galleria di 406 di Modena, la Riete di Bologna, la Galleria 41 Arte Contemporanea di Torino o la Gate di Bolzano. E con queste gallerie ho avuto modo di fare in certi casi almeno una personale. E lentamente, anche grazie a loro, crescere, avere l'opportunità di esporre quello che nel frattempo stavo elaborando. Nel 2006 ho ricevuto la chiamata da parte di un gallerista tedesco che ha conosciuto la mia opera grazie ad un mio amico che è un poeta, si chiama Domenico Brancale. Questo gallerista in un breve giro di tempo mi disse che aveva intenzione di dedicarmi a una personale nella Galleria Eckmeister di Meunster. E poi ho ricevuto una chiamata da Giacomo Guidi che aveva avuto modo di conoscere la mia opera e ho successivamente avviato un percorso assieme alla Guidi MG con la mia ultima personale che è Ius. Una doppia personale che si è svolta nella sede di Roma, nella Galleria Guidi MG e nella sede di Sarzana, presso la Galleria Cardelli e Fontana.